benvenuto nel canale fabio pecce ricordati di lasciare un mi piace e di attivare la campanella per non perderti altri video dopo la fine del grande fratello molti utenti già sentono la mancanza del reality per l'appunto si chiedono e ora quando inizia l'isola dei famosi 2023 la risposta è semplice l'isola dei famosi 2023 inizierà due settimane dopo la fine del precedente reality pertanto la data di partenza è il 17 aprile 2023 si parte di lunedì alvin è stato confermato in quanto le vicerie del litigio tra la blaasi e lo stesso alvin sono tutte false in studio è confermata vladimir luxuria come opinionista e al posto di sabino ci sarà enrico papi famoso conduttore mediaset degli scorsi anni le puntate saranno 11 andranno in onda ogni settimana mentre il termine delle puntate dovrebbe essere tra il 26 e il 28 giugno 2023 ad ufficializzare i concorrenti sarà la stessa mediaset tra qualche giorno con una comunicazione ufficiale anche tu sei in trepida attesa faccelo sapere